Uno di quei casi nei quali una tempestiva segnalazione da parte dei cittadini unita alla prontezza di intervento e alla professionalità dei carabinieri consente di stroncare sul nascere fenomeni criminali. Una brillante indagine dei carabinieri della compagnia di Castelmassa che ha consentito di individuare una 19enne che si sarebbe resa responsabile di reati particolarmente odiosi come i furti con strappo ai danni di anziani. Con lei avrebbe agito una sedicenne. Una risposta a questo fenomeno davvero di elevata professionalità, quella dei militari altopolesani, come è stata definita dai vertici dell'arma del comando provinciale di Rovigo che hanno illustrato l'importante risultato conseguito. Tutto, secondo questa ricostruzione dei fatti, comincia domenica 4 ottobre quando al 112 arriva la chiamata che segnala due donne vicino ad un anziano con atteggiamento insistente. L'impressione di chi chiama, che poi si rivelerà fondata, è che non siano lì unicamente per parlare ma che lo abbiano preso di mira, verosimilmente per derubarlo. Immediata l'attivazione dei carabinieri che si precipitano sul posto raccogliendo una prima descrizione delle due donne, nel frattempo allontanatesi dopo che il loro tentativo era per fortuna andato a vuoto e mettendosi immediatamente alla loro ricerca. In via Eridania, occhio bello, l'auto con le due viene individuata. A bordo, appunto, una coppia di giovani donne che avevano appena avvicinato un'anziana che stava camminando col deambulatore. Una preda evidentemente giudicata facile e che la coppia aveva di conseguenza preso di mira. Inmediato l'intervento dei carabinieri, proprio mentre le due giovani stavano mettendo le mani al collo della donna. La catenina era stata appena portata via ed era caduta a terra. A quel punto iniziano gli accertamenti sulla coppia trovata al lavoro in quella maniera. La 19enne, all'esito dell'intervento dei carabinieri, risulta già gravata da un precedente misura cautelare. Per precedenti episodi, sempre di questo tipo, emessa dall'autorità giudiziaria di Mantova. La reiterazione avvenuta in Alto Polesine aveva già comportato un aggravamento della misura. All'arresto in flagranza si è quindi sommata l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La minorenne, 16enne, che era con lei, invece è stata denunciata a piede libero alla procura e presso il Tribunale dei minori. La magistratura ha autorizzato la diffusione dell'immagine delle fattezze della maggiorenne. Se qualcuno, vittima di furti di questo tipo, dovesse riconoscerla come la donna che lo ha avvicinato, è invitato a contattare i carabinieri.